Ciao ragazze, questo è un haul abbigliamento, ogni tanto mi avete chiesto come mai non facevo più da tanto haul di abbigliamento, cioè sorry, il fatto è che spendo molto di più in cosmetici ragazzi, in trucchi, ma comunque qualcosa ho raggruppato in questo tempo. Allora, partiamo con il primo, questo è un vestitino, spero si riesca a vedere, allora è fatto, il colletto è alto ma non troppo, non è una dolce vita, vedete la prima parte è comunque tutto in lana, la prima parte è bianca con le maniche ricciate, corte, quindi sotto ci va una dolce vita, cioè una maglia manica lunga, vedete ha questo fiocchetto con la perla che è un dettaglino bellissimo, si mette con i leggings, con i pantacollant, è semplice, semplice, però ragazze, elegantissimo, secondo me è molto chic, purtroppo non so dirvi dove acquistarlo perché comunque l'ho preso in una boutique della mia città e non fa parte di una catena, comunque è made in Italy, quindi da qualche parte forse, forse riuscirete a trovarlo. Poi, secondo acquisto, sono questi semplicissimi pantacollant neri, elasticizzati, e li ho presi appunto per metterli con il vestitino che vi ho fatto appena vedere, ma stanno benissimo con tutte le maglie lunghe, con tutti i vestitini, quindi, e sono caldissimi. Anche questi sono made in Italy, presi in una boutique, non so dirvi dove trovarli, ma secondo me, più o meno potete farvi un'idea perché questi, voglio dire, sono dei semplicissimi leggings neri, potete trovarli dappertutto, scusate, sono stropicciati. Poi, questo me l'hanno regalato per il compleanno, è una maglia a questa specie di merletto sia alla fine che sulle maniche, con uno scollo a V, quindi sotto ci vanno dolci vita o comunque un'altra maglietta, almeno fino a qua, perché lo scollo, cioè, è molto molto scollata. È anche molto molto lunga, quindi sta bene sia con i leggings che con i jeans, e io l'adoro, la metto sempre, l'unica cosa è molto leggera, quindi sotto ci va una maglia un bel po' pesante, specialmente se state in una città freddissima come la mia, che negli ultimi giorni ci sta nevicando ogni giorno, c'ho tipo tre metri di neve sotto casa, quindi questa, e questa la potete trovare se volete perché è della Benetton, quindi basta andare in un Benetton vicino a voi, poi adesso ci sono gli sconti, quindi magari riuscirete a trovarla con gli sconti. Poi, anche questa stropicciata, ragazze, non fateci caso, questo è un maglione, le maniche sono fatte così, mi ricordano un po', mi ricordano un po' Peter Pan questa maglia, è estremamente lunga, anche questa con leggings e anche con jeans, sta benissimo, stupenda, la uso sempre, sta benissimo anche con i leggings neri che vi ho fatto vedere prima e anche con i jeggings che avevo preso tempo fa da motivi, comunque anche questa è di motivi, quindi se la volete la trovate in tutti i motivi d'Italia e anzi, anche questa magari la trovate in sconto. E poi, ultima cosa che ho preso, sono questi stivali, come sempre, piattissimi perché allora quel giorno ho detto, vabbè, stavolta mi prendo un paio di stivali con i tacchi, cioè assolutamente li prendo alti, poi arrivo in negozio e l'occhio mi cade proprio su questi che non hanno, cioè nemmeno ce l'hanno il tacco, ragazze, non so se notate, cioè non ce l'hanno proprio, però vabbè, mi piacevano tantissimo e poi sono estremamente caldi, dentro hanno un aspetto, sono felpati, quindi per queste giornate con la neve sono stati davvero utilissimi, arrivano più o meno a metà polpaccio e anche questi sono della Cool Way, che è praticamente l'unica marca che compro di scarpe, quindi questi qui, notate che bel fiocchetto hanno, si può anche spostare, lo potete mettere a lato o dietro, io lo porto dietro. E niente ragazze, per adesso questo è tutto, ne farò un altro di video all abbigliamento molto presto perché devo andare a fare un giretto con gli sconti, quindi se riesco a trovare qualche buona occasione vi farò un altro haul. E niente, io spero che i miei acquisti vi piacciono, se avete domande fatemelo sapere, un bacione grande e alla prossima, ciao!